Ehi! 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 Andiamo! Ehi! 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 Rimesse! 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 Subito! Ehi! Posta al pezzo avanti, dona! Andare dietro! Chiudete la distanza! Chiudete la distanza! Chiudete la distanza! Subito la prima! Subito la prima! Dona, fai partire qualche colpo! Dai! Fai partire dei colpi per giocerti! Vieni di gamba! Rimesse! Rimesse! Subito! Dai! Non ti fai male a un colpo! Vai dentro! Vai dentro, dona! Non aspettare così! Lavorare prima! Vai su, dona! Per prima! Vai! 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 Vai, vai, dona! Sei tu avanti! Sogni l'iniziativa! Esci giù! 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 Qui! Qui! Esci giù! Ehi! A casa! A casa! Esci giù! Come si! Tieni da la sola! Vai dentro! Continuando avanti! subito dai cominci a stancarsi vai donna vai dentro di box dai dai donna e stancando fuori scelta donna cercala di braccia non aspettare e arriva la box più di là la tua testina non un ginocchio donna così così vai di nuovo a mollarla salta giampo vai tu per prima donna e arrivi a poi non aspettare il ginocchio donna e arrivi a stancarsi subito come vai a vos metti il puto di rastro donna vai subito però vai 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 bravo bravo Grazie.